ciao a tutti ragazzi sono lucetto e benvenuti nel mio canale oggi affronteremo un altro ramo the stanley parable eccoci ragazzi iniziamo allora andiamo a scovare altre possibilità altre vie le alternative sono questi monitor da spegnere non so ancora cosa fanno un altro monitor si un altro non so alla fine cosa faranno andiamo a trovare una strada diversa e adesso appena ci dice di andare a sinistra seguiamo il suo suggerimento è questa qui e andiamo qua giù non siamo mai stati qua torniamo indietro per andare nella stanza del capo del direttore andiamo giù che cosa ci aspetta vai 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 stanley 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 ci siamo scuso scuso non neate torniamo indietro oh dear abide guardare un minuto vediamo andiamo destra e sinistra partiamo indietro Yes, ce l'ho, ce l'ho Vediamo La sala cinesca Vediamo ancora Dietro, niente, niente No ragazzi, quella è la sala di monitor, giusto? No, 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 no Ma siamo in alto, in un'altra parte Lo spoiler Cuidiamo gli occhi Sì, ma è chiuso È chiuso anche dietro No ragazzi, siamo bloccati E come si fa adesso? Restart the game Siamo già finito? No, veramente Ci porta all'inizio Sì ragazzi No, non ci voglio creare Continuiamo, no Mi puzza questa cosa qua Ci dice le stesse cose Quindi per il momento non è cambiato nulla Possibile? Questo gioco è tutto un casino Cante porte È cambiato Ecco la differenza ragazzi No, non ho cambiato niente Non mi spinto niente di particolare Vediamo Sono aperto Uno, due, tre, quattro Possiamo andare dove vogliamo? Possiamo andare qui Allora Qui Sì Vediamo questo lato Ah, vedo Oridoi diversi Aha Sgamato Un'altra strada No No Qui Niente Aspetta, aspetta, aspetta No, siamo di nuovo Nella stanza Siamo entrati di qua Siamo usciti di qua Andiamo dritto Mi giuro Avventura Allora dritti Cerchiamo di andare dritti Qui 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 Dai Ragazzi Ci ha fregato Andrà a volta Allora Non c'è niente Continuiamo Mi sta Intrigando Vediamo Che cosa Combinerà Le saranno Le due porte Nessuna Porta Emo Abbiamo perso Qualcosa Ok Ci ha aperta La porta Adesso Aspetta 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 Poi era sempre Stato Non ci ho mai Fatto C'è 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 Tornare Indietro Nella nostra Stanza Blu Blu La storia Che arriva Non mi dire Che arriva Senza porte Che cavolo Ha combinato Guarda Quanto Avanti e dietro Sono facendo Cambiato Cambiato È stata Pecchia Però è aperto Vediamo Giusto Ti ho ragione Stavolta Narratore Ho scoperto Che stavolta Che stavolta Stavolta Che stavolta Abbiamo vinto Ehm Poi Spurami dietro Questa No E questo è Cambiato Poi questa stanza C'era Una porta Qui Eh Ehm Ehm Non mi dire Ricominciare Un'altra volta Questa mi sa Che Guarda E ci fa Ricominciare Quindi questo è Il finale Che ci fa Ricominciare Tante volte Se non troviamo La via giusta E qua Ci ho messo E prete Sì dai Che la voglio Mirare più presto Stavolta Ho aperto Aperto Sì dai Sono le nuove Guardalo Siamo Detro le quinte Così Un giro Stavolta Guarda la linea Come sta facendo Sadeviamo Non c'è capito Un atto Di quello Che stava Dice E qua Come si sa Punto interrogativo Bello La nostra storia Come la musica Si trova la freccia Si sta andando Per i fatti suoi Zigzag E' un po' assordante La musica Nelle cussi Ma guarda Guarda come fa La linea Wait Ferma la musica Niente di fecce Andiamo indietro Questa Stanley This fern Will be very important Later in the story Make sure You study it closely And remember it carefully You won't want to miss anything Non mi C'è di guard Ho guardato Ho visto Ho visto Non so Cosa serve Eh ma Sve zile 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 Di nuovo No Di nuovo Qua Non vuole andare 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 Eh qua 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 Da un casino Si apre Eh no E qua E la nostra stanza Giusto Sì Eh Andiamo Alla stanza Dei monica Guarda Un po' Eh Sì Qua E siamo Quindi Punto a capo Ma vediamo Che ci dice Di nuovo Lo spoiler Spoiler Oh no Ah si dai, cosa propone? Sento il rumore Un'altra strada senza linea Qui siamo solo noi e il narratore Dai vediamo Guardalo Ehi non mi dire che è tutto uguale No dai che cavolo Mi ascolti Qui è pronto Ecco qua La linea Spaccato tutto Va bene Basta che Dovevamo ignorare la linea Siamo Alla stessa parte Guarda come Mi si insinua questa linea Quindi siamo io Narratore contro la linea Una scelta E deve aprire due porte Ok dai Un attimo per pensare Un attimo per pensare Un giro rotondo Un giro Iuuu 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 Finito Finito Abbiamo finito Confusing ending Non leggo Non leggo di sottotipoli Non leggo di sottotipoli 8 volte Allora vediamo Primo restato Secondo Terzo Quarto Quinto Sesto Sette Otto All'ottavo Il narratore Se ne va E noi moriamo Allora al settimo Non c'è l'ufficio Tutto nero Troviamo un Store Ci annoiamo Ce ne andiamo Finito Restart Stesso Nuovo la linea Non è davvero 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 Un funzionario Non è davvero Non è davvero Non è davvero Non è davvero Oh si ribella Si ribella Non rincomincerà il gioco Non è davvero Non farlo Oh guarda Ha fatto fermare il tempo Vai anche lui No? Non mi fare Le start up No? Ok Apri la porta Non è davvero Un po' però mi si è successo eh Un'altra volta Un'altra volta A posto? Ok Ok Quando Stanley Stai arrivò A un set di due porte aperte Lì Finito Mi sa che Mi sa che Trampiamo Oh ragazzi si è aperta? Ok E scopre E scopre E scopre Ok Ragazzi Restarto io Proviamo un'altra cosa Perché mi sa che il finale è uguale Ragazzi Ragazzi ci facciamo Qui su un piccolo giro Vediamo un po' Voglio Voglio provare una cosa Non parla più Ci è mutato Incredibile Mi sa che se entro Nella stanza Dove c'erano lì Dove fai a qualcos'altro? Mi sono chiuso Mi sono chiuso Mi sono chiuso Mi sono chiuso E perlattare per che finire Qualcun c'è che ti amico Ehm In questa sala Mi sono chiuso Mi sono chiuso Un po' Passiamo un po' Un po' Ragazzi Lasciamo un po' Un po' vediamo non li posso mi abbasso adesso non succede niente ritorniamo in questa stanza, mi piace va di nuovo nella stanza dello sgabuzzino guarda ha cambiato ritorniamo è un'altra strada un'altra finale ragazzi ho scoperto una nuova cosa dobbiamo resettare e andare sempre nella stanza sgabuzzino andiamo guardalo guarda guarda no sarebbe lì facciamo quest'altro tentativo ragazzi Stanley guarda ha cambiato di nuovo cosa ci dice ragazzi santo delle scupe speriamo che è aperta adesso adesso vediamo 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 non c'era nessuno qui no e no di nuovo e no di nuovo ragazzi l'ultima volta nella stanza la stanza scopere scopere poi direi di finire l'episodio qui direi un bel po' scopere Stanley ha deciso di andare alla stanza a sua destra yes and so he detoured through the maintenance section walked straight ahead to the opposite door and got back on track vediamo se sta il puzzino no è sparito guardalo ha fatto sparire il puzzino e più no è avanti vediamo se sbagliato a qui dopo questa stanza no ragazzi direi che l'episodio di oggi può finire qui questa serie di Stanley la terminiamo qui anche perché non so più che strada prendere se volete altri video di Stanley farò degli extra scrivete nei commenti quindi se vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate e alla prossima ciao 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 ciao